La cerimonia annuale per la consegna delle onoreficenze al merito della Repubblica ha visto a Chieti insigniti del prestigioso riconoscimento coloro che nei rispettivi settori si sono adoperati e hanno lottato contro il Covid. L'onoreficenza al merito della Repubblica, istituita nel 1951, è stata consegnata stamane a Chieti al luogotenente dell'esercito in congedo Luigi Esposito e per la Guardia di Finanza all'appuntato Nino D'Angelo e al brigatiere Achille Filippone. Per l'arma dei carabinieri al maresciallo Giuseppe Marrone e al luogotenente Salvatore Gemino. Per quanto riguarda la Polizia di Stato premiato il sostituto commissario Antonio Ucci e per il settore sanitario premiati i medici Antonio Candeloro e l'infermiere Michele Cozza. Tra i civili insegniti del riconoscimento anche i rappresentanti della società che hanno dato il loro contributo in favore della collettività durante l'emergenza pandemica Nicola Sciulli della cooperativa Croce Gialla di Lanciano e Antonio Mancini fondatore dell'associazione di protezione civile NOT Nucleo Operativo Teate. Tra i premiati anche il giornalista Vincenzo Lalla di Vasto. È una giornata particolare per chi ricopre un ruolo di governo perché in quel momento sente sulle proprie spalle il peso di dover rappresentare lo Stato verso chi è stato eccellente. È un grazie che lo Stato vuole dire tu sei riuscito a fare qualcosa di più, anzi hai fatto qualcosa di più che non ti veniva chiesto di fare. Ti sei prodigato per fare nel tuo mestiere, nel tuo lavoro, nel tuo impegno anche sociale o di volontariato, un qualcosa in più che ha dimostrato che le tue attitudini erano qualcosa che usciva fuori dall'ordinario. Sono emozioni vere, mi credo, ed è giusto che questo premio venga dato in un luogo come la Prefettura che è il Palazzo di Governo, appunto, e in questo momento loro sentono e avvertono l'istituzione a loro vicina.